Lei, sindaco, è stato tra i primi a sapere di questo fatto. Sì, una paesana è venuta da me facendomi ascoltare un audio in cui Pescaglini comunicava di aver dato, di voler dare due coltellate appunto alla moglie. E quindi ci siamo subito attivati chiamando il 112. Poi abbiamo provato a chiamare lei, non rispondeva, abbiamo provato a chiamare lui, non rispondeva. Alla fine abbiamo chiamato l'albergo dove sapevamo che appunto alloggiava e la signora dell'albergo ci ha detto che c'era già l'ambulanza, il calabiniele e c'era una donna per il terla. Quindi l'abbiamo saputo così.